Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Centro Uno a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Mi sono dato un cambio d'abiti Per sembrare un filino Più figo e dai Non è così male Poi tra l'altro piccola chicca Che aggiungono a questo gioco Se compri un oggetto Abbigliamento Viola Il punteggio che guadagni di rispetto È maggiore di acquistarlo di un altro colore Giustamente Quindi Iniziamo Una nuova missione Buon Natale signor Sharp Eh lo so Adesso gli spara Oh no Oh no ok Pensavo la volesse accoltellare O farla esplodere Sarebbe stata sicuramente una Una fine più decente Che Quello che probabilmente gli è successo Eccoci qua Il tavolo da biliardo È qua dentro Buongiorno Ho un appuntamento E ovviamente È un'imboscata Aspetta Aspetta Esattamente quello che volevo Non posso Fottere con voi Lo dite voi Aspetta che Riporto in vita Sta gente Dov'è l'altra Aspetta Dove sei Ecco fatto Tutti i miei Companion Stanno bene Più o meno Ecco fatto Bello Pulito Questa zona Aspettiamo un attimo Vabbè Troppo tardi Dai Oh Non ho più Granate Peccato Aspetta che Sto Per crepare di fame Ma Statene buono Va E dai C'è ancora qualcuno Sì che c'è qualcuno Allo Allo Tutto bene Io intanto Mi prendo un po' di soldini Ricarico l'arma Che non si sa mai Lynn Tutto a posto Ovviamente no Sì come no E secondo te è viva Aia che dolore Liberazione Missione compiuta Ah Cioè in sostanza Abbiamo fallito Ma abbiamo comunque Guadagnato Un controller Scarico No non è vero Un controller Che si scollega Abbiamo guadagnato La zona Probabilmente La missione Continua Quindi Io vi ringrazio Come sempre Per avermi seguito Come al solito Se mai avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo